L'esame di maturità sta per tornare come lo abbiamo sempre conosciuto. Dopo tre anni scolastici caratterizzati dall'emergenza del coronavirus, l'esame più atteso e temuto dai ragazzi tornerà a svolgersi nella normalità come accadeva prima della pandemia. La prima prova scritta d'italiano comune a tutti gli indirizzi di studio sarà mercoledì 21 giugno 2023. Poi ci sarà la seconda prova scritta riguardante le discipline relative ai singoli percorsi di studio e infine il colloquio. Le discipline scelte per la seconda prova scritta variano a seconda dell'indirizzo della scuola. Si va dal latino per il liceo classico, alla matematica per lo scientifico, fino alla lingua e cultura straniera per il linguistico, ma anche teoria, analisi e composizione per il liceo musicale, economia aziendale e geopolitica nell'articolazione e relazioni internazionali per il marketing o tecniche di produzione e organizzazione per l'indirizzo produzione industriali e artigianali. La scuola tenta di tornare alla normalità a margine di anni condizionati dalla presenza della pandemia che ha stravolto anche alla consuetudine degli istituti scolastici. Da mercoledì 12 giugno si parte quindi con quella naturale adrenalina che soltanto l'esame di maturità sa raccontare.